Credo che sia abbastanza chiaro, la Lazio è un grande club e io chiaramente ho fatto un passo avanti nella mia carriera. Voglio far parte di questo progetto e come me lo ha spiegato anche Igli, già da qualche settimana io mi sono integrato e voglio essere pronto al più presto per dare tutto quello che posso. Sono molto contento, queste prime settimane sono molto... No, ero già pronto per il cambio, anche se ovviamente ci sono poi delle cose che ti possono succedere. Mi alleno qui, è vero, da non molto e quindi il cambio è stato anche abbastanza importante ma soprattutto positivo e devo dire che voglio adattarmi, sto facendo del tutto per adattarmi il più velocemente possibile al gioco e per essere pronto. Sì, ho molta voglia di giocare, mentalmente sono pronto, fisicamente leggermente meno ma è normale perché sono arrivato con un po' di ritardo. È chiaro però che nel mio cuore c'è tutta la voglia di far bene e se devo giocare giocherò. Il gioco di prima punta, sono un attaccante di aria e mi piace molto prendere la palla. È chiaro che mi posso adattare a qualsiasi modulo, 4-4-3 o 4-4-2, ma posso convivere tranquillamente con altri attaccanti e mi adatto tranquillamente a qualsiasi sistema che mi permetta anche di fare gol. Sì, è chiaro che ha molto potenziale per giocarsela in Europa, anche se ci sono poi molti club molto competitivi, però è un'opportunità per la Lazio, una buona opportunità per la Lazio di far bene perché al suo interno ha dei buoni giocatori che possono lottare per dire qualcosa in Europa. Sono stato accolto molto bene, ho trovato un grande gruppo e la squadra nel suo insieme ha un gran cuore, mi hanno accolto veramente molto bene aiutandomi ad adattarmi il più velocemente possibile. Del mister, posso dire che ha una grande personalità e che dà molto ai suoi giocatori e mi sta dando molto per dare a me molta fiducia. Il mister Bink, la verità è che mi ha sorprendito la personalità, mi ha sorprendito lo diretto che... Sì, la verità è che... Beh, chiaramente ho tantissima voglia di far bene. È una grande opportunità e sono in un club importante. Chiaramente la mia ultima stagione non è andata molto bene, ma spero di rifarmi qui, di fare gol, di vincere e spero davvero che possa riscattarlo. Sono tutti molto buoni delantero, sono delantero. Beh, ovviamente sono tutti grandi attaccanti, grandi giocatori. Io Ciro lo conosco da quando era in Spagna. I Guain l'ho incontrato qualche volta nelle amichevoli nazionali. Sono tutti dei grandi calciatori e si muovono con molto equilibrio. Chiaramente noi nella nostra squadra abbiamo non solo Ciro, ma c'è anche Keita e penso che domenica, indipendentemente da chi scenda, hanno tutti la voglia di vincere. Sì, che buono, sono giocatori che si equilibrano. Sì, che buono, sono giocatori che si equilibrano, ma per noi.